Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Per temi anche in questo nostro appuntamento ecco i titoli. Parleremo dei vaccini e la valutazione positiva da parte del Presidente per l'accesso alla vaccinazione anche per i cittadini nati tra il 1941 e il 1944. Poi la questione MPS Monte dei Paschi passa a una risoluzione per la tutela del marchio, la tutela dei posti di lavoro e la governance in Toscana. E poi la festa della donna in Consiglio regionale sono state premiate 5 eccellenze di scienza e sport. Siamo di fronte alla più grande vaccinazione della storia dell'umanità. Sono orgoglioso di come la Toscana sta agendo in questa fase così delicata. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che valuta positivamente l'accesso alla vaccinazione anche per i cittadini nati tra il 1941 e il 1944. Chiede alla struttura informatica regionale della sanità però di approntare un sistema che superi alcune difficoltà riscontrate nella preadesione online. L'avevamo detto, volevamo andare a coprire anche quella fascia di mezzo tra i 65 e gli 80 anni non appena avevamo a disposizione i vaccini e non appena AstraZeneca ci è stata data la possibilità di utilizzarlo anche per gli over 65 l'abbiamo messo subito in campo. Qualche problema stamattina l'abbiamo avuto, tante richieste, tanti accessi e ci scusiamo con le cittadine e i cittadini della Toscana se all'inizio non hanno avuto la possibilità di accedere e se qualcuno si è giustamente lamentato. Ma questa è l'organizzazione che richiede di crescere sempre. Io penso che i nostri servizi informativi, le nostre tecnologie debbano fare di più perché anche se ci sono degli accessi, un numero eccessivo di accessi, il sistema deve essere in grado di accogliere tutto. Poi chiediamo ai cittadini di avere tanta pazienza perché comunque la domanda è molto superiore ancora all'offerta di vaccini che abbiamo ma come detto entro l'estate noi vorremmo coprire tutte, tutte le persone più fragili, tutte le persone anziane, tutti coloro i quali hanno più bisogno della vaccinazione. Un impegno che ci siamo presi, un impegno che con fatica stiamo portando avanti. La questione MPS, una risoluzione unitaria che è stata sottoscritta dal capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli, Stefano Scaramelli, Talaviva, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, Elisa Montemagni della Lega e Marco Stella di Forza Italia. Il Consiglio regionale con questo atto impegna la Giunta regionale a proseguire il confronto istituzionale aperto con il Governo nazionale a difesa del risparmio del credito in Toscana nella ricerca delle migliori soluzioni tecniche possibili per garantire un futuro solido al Monte dei Paschi di Siena. La Banca è considerata presidio economico e occupazionale strategico per il territorio senese e toscano e all'interno di un progetto dal respiro nazionale ed europeo. La comunicazione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, ha aperto il dibattito in Consiglio regionale sul futuro appunto della Banca senese. Noi oggi abbiamo un Consiglio regionale che prende posizione sul Monte dei Paschi. Il ragionamento che io ho cercato di sviluppare è questo. Se le alternative sono Monte dei Paschi da incorporare o Monte dei Paschi da mantenere nella sua autonomia e nel suo profilo, almeno per un paio d'anni come la Banca pubblica che possa sostenere una prospettiva. Io sono chiaramente su questa seconda strada. Ho fatto l'appello al Consiglio regionale perché il Monte dei Paschi possa mantenere quella identità che significa lavoratori da difendere, significa management da tutelare perché abbiamo dei dirigenti di primo ordine, che significa prospettiva di mantenimento di una banca pubblica che sia di motore a tutto il rilancio e alla ripresa dopo l'emergenza economica che segue l'emergenza sanitaria. Penso che se andiamo a guardare le cifre di quello che costa allo Stato, avevo letto sui giornali che costava almeno 5-6 miliardi il capitalizzare il Monte dei Paschi perché potesse essere ben venduto. L'amministratore delegato del Monte dei Paschi nella sua relazione qualche settimana fa invece ha fatto presente che con una capitalizzazione di 2-3 miliardi, quindi minore rispetto all'incorporazione, si può consentire alla Banca nel 2023 di ritrovare un suo equilibrio economico di pareggio e poi di crescita. Questa secondo me è la strada giusta da perseguire salvaguardando quindi la storia secolare del Monte dei Paschi ma soprattutto un'identità di banca che per la Toscana e in generale per l'Italia in questo momento di ripresa, di servizio e di supporto alle imprese ha molto da dire. La scelta e il fatto che sia stata votata a larga maggioranza, quasi all'unanimità e comunque con nessun voto contrario è il segno di tutte le forze politiche di voler dare un mandato pieno al Presidente Eugenio Gianni per fare in modo che venga valorizzata la banca, venga valorizzato il territorio e si possa evitare di disperdere un valore importante per Siena e per la Toscana. La redditività operativa ancora è bassa perché il passato, quello che hanno potuto fare lo stanno facendo, oramai abbiamo questo, purtroppo abbiamo il problema del personale perché tutte le banche hanno tagliato, Monte dei Paschi non l'ha fatto e quindi ancora questa redditività operativa che non funziona. quindi diamogli tempo, il piano c'è, mi sembra che è un piano realistico, certo non raccontano sogni, se l'avete letto, dicono quello che sono e quindi cerchiamo di tagliare, io direi anche di fare qualche dismissione perché l'hanno fatto tutti, tutti i sistemi bancari, tutte le banche l'hanno fatto per salvare il salvaggere perché una fusione vuol dire chiudere il Monte dei Paschi. L'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia, per fare questo deve essere il coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il Governo deve fare la propria parte. Il Governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane chiediamo di assumersela facendo in modo che i dipendenti, marchi o storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda il centro Monte dei Paschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva il dossier Monte dei Paschi rafforzando questa storia, dandole ambizioni e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita e di rafforzamento e di consolidamento. Siamo fiduciosi intanto che il Presidente del Consiglio possa dare un impulso diverso a quello che è il valore della banca anche sul territorio, anche per la tutela dei 20.000 posti di lavoro perché circa 7.000 li abbiamo già perduti, c'è una valenza ovviamente anche del mantenimento della sede dirigenziale nella città di Siena, c'è chiaramente il valore del brand Monte dei Paschi sono tutti argomenti che dipendono anche dall'azione che noi riusciamo a fare dalla regione e dal territorio nei confronti dello Stato. Noi pensavamo quando Giuseppe Conte era Presidente del Consiglio che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi. Ora è cambiato il Presidente del Consiglio e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere, noi cambiamo idea. Noi rimaniamo convinti che si debba procrastinare di 24 mesi la privatizzazione di MPS. Così come su altri temi, noi non possiamo oggi arrivare in aula e votare un documento in cui ci diciamo che ci vogliamo tutti bene e che dobbiamo salvare MPS per il bene di Siena e ci mancherebbe altro, tutto vero, ma non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni. Non possiamo far finta che gli ultimi 30 anni o 40 anni non siano mai esistiti e che se oggi MPS si trova con l'acqua alla gola è così perché è colpa degli alieni. E' colpa di una parte politica, la sinistra, che ha governato a Siena e ha messo le mani in MPS per 30 anni, per 40 anni e ha creato questo dissesto. La salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare Monte dei Paschi nelle mani del tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana, la banca più vecchia al mondo, per dare delle radici solide. Questo non esula però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca, dalla commissione fra la politica e la banca, perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome. Era chi guidava le amministrazioni locali, chi guidava la provincia, chi guidava i comuni di quel territorio, chi all'epoca era presidente del Consiglio dei Ministri, che scelse i membri del CDA della banca, il presidente della banca, che con una scellerata decisione decisero di acquisire Anton Veneta e Banca 121. Da lì partono tutti i problemi di Monte dei Paschi di Siena e quei problemi hanno un nome e un cognome molto chiaro che era la gestione politica di quella banca. Ci siamo sempre battuti contro la decisione politica, le scelte della politica nei confronti della banca, perché le banche dovrebbero essere liberi. Le banche sono aziende. Non fosse altro perché all'interno delle banche c'è un CDA, ci sono dipendenti, ci sono lavoratori e ci sono i risparmiatori. Quei risparmiatori hanno pagato per quelle scelte scellerate. Ciò che è avvenuto, quegli intrecci tra politica e finanza, che tanto male hanno fatto a Monte dei Paschi e di conseguenza ai risparmiatori, agli azionisti e al territorio non solo regionale ma anche nazionale, non ci fossero più. Fossero in tutti i modi da quel momento in poi stornati. Però ho letto in questi giorni delle ricostruzioni riguardo un'eventualità, un possibile accordo che ci può essere stato all'interno delle discussioni della coalizione di maggioranza riguardo la nomina che deve essere fatta dalla Regione Toscana di un membro della Deputazione per sostenere quella che è la riforma dello Statuto che in questo momento è promossa da Gianni. Questo significherebbe, se fosse vero, che non si è ancora capito niente di cosa significa fare un passo indietro in politica dopo che ci si è resi conto dei danni, degli errori che sono stati commessi. Io spero che Gianni possa in maniera esplicita rigettare questa ipotesi che è stata fatta, darci dei chiarimenti e si capisca che questo è il momento invece di andare davanti al governo nazionale, agli interlocutori a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo che ha dato prestigio e tanta ricchezza alla nostra Regione ma anche all'Italia. Cinque donne e cinque eccellenze toscane che si sono distinte per merito, volontà e impegno. La Toscana premia le sue eccellenze in rosa nella giornata internazionale dei diritti della donna. Le premiante sono Teresa Fornaro, ricercatrice dell'INAF di Firenze, l'unica italiana tra 13 scienziati. che partecipano alla missione Mars 2020. Claudia Sala, responsabile del Med Lab Toscana Life Science, con il suo gruppo di ricerca ha individuato e brevettato per primo in Italia gli anticorpi monoclonali. Elisa Volpi, fiorentina, ricercatrice dell'Università di Ginevra, vincitrice del premio internazionale Jean Blondel, ha segnato un'associazione che riunisce le maggiori università e associazioni di studi politici in Europa. e poi Ambra Sabatini, atleta 19enne, ha fatto il record del mondo sui 100 metri nella categoria in cui gareggiano gli atleti che hanno subito l'amputazione sopra il ginocchio e partecipa alle prossime Paralimpiadi di Tokyo. Chiara Sacco, atleta di canottaggio, oltre ad avere ben 5 record del mondo nella disciplina indoor rowing e vari titoli di campionessa italiana. In un giorno come questo abbiamo voluto premiare 5 donne che stanno portando in alto il nome della Toscana, dell'Italia nel mondo, ognuna nella loro disciplina, nella ricerca, nello sport, mondo culturale. Noi in questo momento vogliamo mandare un messaggio, un messaggio forte di speranza che la Toscana deve ripartire guardando al futuro con gli occhiali delle donne. Io penso che in un momento come questo dobbiamo mettere in campo risorse esattamente in questa direzione. La nostra proposta di legge che abbiamo fatto durante la campagna elettorale è quella di dare l'asilo nido gratuito a tutte quelle famiglie che hanno in sé sotto 40.000 euro è un modo per dare risposte ad un welfare che richiede un ruolo più forte ancora delle donne nella nostra società. Tanto possiamo fare, ma tanto usiamo questo momento per dire grazie, grazie per tutto quello che loro hanno fatto per noi. Io penso a Claudia Sala e all'importante lavoro di ricerca sui monoclonali che potrà aiutare a curare i malati Covid nella fase iniziale, oppure a Teresa Fornaro e al lavoro enorme che sta facendo per portare e a conoscere tutto ciò che c'è oltre la terra e che c'è su Marte. Insomma, a loro un grazie di cuore e oggi questo è un segno, un segno importante. Io dico che sempre la festa della donna va festeggiata finché nel mondo non ci sarà una sola donna a non avere gli stessi diritti che abbiamo noi uomini e per questo vogliamo tenere alta l'attenzione su questa giornata così particolare. Rappresenta quello che le donne possono fare, nel caso mio possono fare nel campo sportivo e sono orgogliosa di essere affiancata da queste altre magnifiche donne. Per me è un onore essere qua, in questo giorno che rappresenta il simbolo di tutte le donne e di tutti i diritti che abbiamo acquisito nel tempo, sia economici, di indipendenza economica, politica, sociale. Quindi per me è un doppio onore, diciamo. Se voi avete una passione che è quella della scienza, perseguitela. Non abbiate paura degli ostacoli, non abbiate paura di non riuscire a conciliare lavoro con la famiglia perché appunto quello che serve è soltanto l'impegno, la perseveranza per rimanere in tema di questa missione della NASA. Basta perseverare, credere nei propri sogni e si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Per chi fa come me appunto il lavoro del ricercatore sicuramente lo stare aggiornato, l'essere informato, il non essere superficiale, che poi credo sono messaggi che poi si applicano a tutti i campi dello studio, del lavoro e della ricerca. Fintanto che non raggiungeremo l'equità sicuramente sono necessari. Spero che un giorno riusciremo a superarli anche, nel senso che non ce ne sarà più bisogno di avere anche premi come questo se vogliamo, che premiano le donne in quanto donne, quindi per il loro genere. Complimenti alle nostre cinque donne e le cinque eccellenze toscane. Per tutte le informazioni che riguardano appunto il Consiglio regionale della Toscana c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it Io vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, dentro il Consiglio. Grazie. 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 Grazie.